Acquistava droga proprio sotto il tribunale di Pescara per poi rivenderla all'interno del suo studio, considerato in virtù della sua condizione di difensore legale, inviolabile alle forze dell'ordine. Si svolgeva così l'attività di spaccio dell'avvocato Gianluca Pollegioni del foro di Pescara, arrestato assieme ad altre sette persone, nell'ambito dell'operazione della squadra mobile di Chieti in collaborazione con i colleghi di Pescara, denominata Gianno Gnu. Stamattina pertanto abbiamo eseguito otto misure di custodia cautelare, di cui quattro in carcere e quattro agli arresti domiciliari. L'attività invece di spaccio del legale, risultato da attività, venisse prevalentemente, anzi direi sistematicamente, all'interno dello studio. Lui in pratica cedeva la droga all'interno dello studio a un altro personaggio, un'altra persona che è stata anch'essa destinata a una misura degli arresti domiciliari. Perché riteneva quel luogo insospettabile. Sappiamo comunque che la droga che riceveva il Luzzi dal Pollegioni non era per sé, non era per uso personale. Noi abbiamo riscontrato soprattutto che nel caso dell'avvocato veniva usato un frasario particolare, Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Praticamente Rai 1 significava una dose di 3 grammi, Rai 2 di 6 grammi, Rai 3 di 9 grammi. L'operazione prende il via da una precedente indagine della questura di Pescara chiamata Submission, con la quale si scoprì la corruzione di teste mediante la cessione a titolo gratuito di sostanze stupefacenti. Queste prime indagini hanno consentito di smantellare una ramificazione di acquisto e spaccio di droga, prevalentemente cocaina proveniente dal napoletano, che coinvolgeva tutta l'area metropolitana di Pescara Chieti ed in particolare la cosiddetta Pescara Bene. Grazie.